In collegamento telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile di Meteo7.it per conoscere le previsioni previste per questo nuovo fine settimana. Giuseppe, prima di scendere nel dettaglio, vogliamo partire come sempre dalla situazione attuale del tempo. La nostra regione è interessata da una profonda circolazione depressionaria a carattere freddo, originatasi nella giornata di ieri, giovedì, in prossimità della Corsica, a causa dell'affondo sul Mediterraneo centro-occidentale di una depressione di origine groenlandese. Il vortice depressionario ora va spostandosi verso lo Ionio, perdendo man mano vigore, anche se nel corso delle prossime 12-18 ore determinerà ancora condizioni di instabilità con sporadiche precipitazioni che, nelle aree interne, assumeranno carattere nevoso fino a bassa quota. Tra sabato e domenica la situazione tenderà a migliorare, sebbene si tratterà solo di una pausa. Che cosa ci aspetta invece per le giornate di domani, sabato e domenica? Per domani, sabato 26 gennaio, avremo condizioni iniziali di cielo irregolarmente nuvoloso con temporanei addensamenti anche consistenti lungo la dorsale appenninica, dove saranno possibili deboli spruzzate di neve al di sopra dei 600 metri. La tendenza sarà per un rapido miglioramento, con cielo che entro la serata si presenterà sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature senza variazioni di rilievo, venti tra moderati e forti da nord-est, ma con tendenza a diminuire di intensità nel corso della giornata. Mare da mosso a poco mosso. Per domenica 27, cielo poco nuvoloso ovunque, con tendenza ad aumento della nuvolosità ad iniziare dalle aree costiere. possibilità di precipitazioni dalla serata in intensificazione nel corso della notte. Temperature in aumento, sensibile dalla serata. Venti deboli di direzione variabile, con tendenza a disporsi da sud-ovest, rinforzando sensibilmente dal pomeriggio sera. Mare da poco mosso a mosso, con moto ondose in ulteriore aumento dalla serata. E sulla tendenza della prossima settimana invece cosa ci puoi dire? Sulla nostra regione continueranno a transitare altri fronti perturbati provenienti dal nord atlantico, che manterranno condizioni di marcata instabilità almeno fino alla fine del mese. In particolare avremo il passaggio di almeno due perturbazioni, una lunedì 28 e un'altra tra mercoledì e giovedì. Perturbazioni precedute da correnti miti e seguite da aria relativamente fredda. Pertanto ci attendiamo altre precipitazioni per buona parte della prossima settimana. Precipitazioni che assumeranno carattere nevoso localmente a quote alto collinari, intorno ai 600-700 metri. Ma per maggiori dettagli invito i telespettatori a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteosette.it